La Sir Perugia che è pronta all'esordio nel campionato sul campo del Piacenza per la prima giornata di Superlega in programma domenica pomeriggio. Intanto il presidente della Sir, Gino Sirci, ha partecipato al Quirinale alla cerimonia di riconsegna del tricolore da parte della Nazionale di Volli che è stata protagonista alle recenti Olimpiadi di Rio. Il servizio. Giornata particolarmente emozionante quella di ieri per la Sir Perugia del presidente Gino Sirci. Il patrono bianconero infatti ha partecipato alla cerimonia di riconsegna del tricolore al presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale con il ricevimento della delegazione italiana che ha difeso i colori azzurri a Rio de Janeiro nell'Olimpiade 2016 per quanto riguarda il volley con il raggiungimento della medaglia d'argento. Erano presenti le più alte cariche istituzionali e sportive il presidente nazionale FIPAV Carlo Magri, il presidente del CONI Giovanni Malagò e il presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi Oltre naturalmente al capo dello Stato, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha avuto parole ed elogio per i giocatori della formazione della Sir Perugia. Avete onorato il movimento sportivo italiano, ha detto Mattarella, in riferimento al bellissimo percorso degli azzurri del volley in questa Olimpiade brasiliana. La cerimonia è stata anche l'occasione per premiare gli altri atleti delle discipline previsti a Rio 2016. Intanto la squadra di Boban Kovac è tornata ad allenarsi ieri con la doppia seduta al Palli Evangelisti in vista dell'esordio di campionato a Piacenza di domenica pomeriggio. Si affronta una formazione che si è rinforzata molto sul mercato, la Sir però è condannata a vincere dovunque per accontentare quelle che sono le ambizioni legittime del presidente di vincere il campionato.